Il 29 marzo del 1792 muore Carlo Gustavo III di Svezia, che era sovrano dal 1771. Amante delle arti e della cultura, fondò l'Accademia delle Arti di Svezia e fece costruire il Teatro Reale di Stoccolmo. Il re morì in circostanze tragiche, infatti colpito da un nobile svedese di nome Jakob Johann Angstrom, che ne disapprovava la politica assolutistica. Il fatto avvenne durante un ballo in maschera. Dopo alcuni giorni di agonia, il re morì il 29 marzo del 1792.